Musica Amici di Fano TV, bentrovati per lo speciale odierno. Siamo a Sant'Angelo, in vado, proprio al centro sperimentale Assam, che ospita l'ultimo degli incontri previsti dal ciclo promosso dalla Regione Marche e dal PSR. Continua il dialogo con i territori, oggi giornata conclusiva, quella di arrivo e quindi presentazione della programmazione 2023-2027 e anche dei bandi in uscita e prossima emissione. Si continua a dibattere sui temi legati alle politiche rurali, ci sarà una questione cardine proprio anche oggi che andremo immediatamente a scoprire con i nostri ospiti. Seguiteci. Diamo il benvenuto al primo cittadino di Sant'Angelo che ospita un altro degli appuntamenti del PSR e celebra in qualche maniera il tartufo. Sì, per noi il tartufo è un elemento importantissimo anche nell'economia del paese. Abbiamo la mostra nazionale del tartufo bianco che avrà la 59esima edizione, ma soprattutto è importante, ringrazio la Regione Marche di fare questo evento qua in conclusione del roadshow che stanno facendo sul PSR perché Sant'Angelo si è sempre da sempre qualificata come sito produttivo, quindi ha una valenza doppia per noi questo incontro qua. Quindi una celebrazione proprio dell'eccellenza del territorio e possiamo definire Sant'Angelo in vado, proprio la capitale del tartufo. Assolutamente sì, non abbiamo niente da tamire nei confronti dei players internazionali più importanti, anzi molte volte quello che trovate ad Alba o in altri siti che magari dal punto di vista commerciale sono più importanti di Sant'Angelo in vado viene da questi territori qua. Questo piano, questo progetto prevede anche un rilancio turistico, in questo caso al turismo esperenziale. Sì, 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 assolutamente sì. Il discorso poi del turismo esperenziale sta sempre prendendo più piede, noi l'avevamo già inserito l'anno scorso nella 58esima e sicuramente lo riproporremo a tutti quei turisti che vengono a Sant'Angelo in quel periodo particolare perché poi facciamo riferimento al bianco pregiato. Tutte le persone che verranno ad ottobre nella mostra nazionale del tartufo avranno la possibilità di fare un'esperienza di cava, di cerca al tartufo. Preziosa collaborazione quella che c'è tra il PSR e l'Università di Urbino. Siamo presenti perché è un rapporto storico, il mio predecessore, il professor Stocchi, era originario di qui, aveva proprio lui avviato questa idea della coltivazione anche del tartufo e quindi sicuramente è una cosa importante è importante perché in un periodo in cui sempre più spesso è prevalsa la globalizzazione, invece proprio in questo periodo si è riscoperto il valore dei territori, i territori come momento sia di crescita, di sviluppo ma anche come modo di stare sul territorio, quindi del benessere di chi ci vive. Quindi tutte le occasioni che è possibile mettere in atto, in questo caso specifico dalla regione con i vari bandi per accedere a determinati finanziamenti, sono delle occasioni che permettono di raggiungere questo obiettivo, quindi far rimanere le persone sul territorio facendole stare bene, avendo possibilità di lavorare e di appunto anche creare quella socialità che invece in molti territori dell'entroterra vediamo che sta un po' diminuendo. Fondamentale questo percorso anche per gli studenti? Sì, sì sì certo, abbiamo appunto, si parla di questi temi anche all'interno dei nostri corsi, soprattutto in ambito scientifico e speriamo che appunto sviluppando anche queste professionalità diciamo non generali ma specifiche possa permettere ai nostri laureati anche di dare un contributo allo sviluppo, alla crescita dei territori. Ci può illustrare la strategia regionale per la valorizzazione del patrimonio forestale che unitamente insomma alla tartuficoltura e ad altre tematiche sarà al centro del dibattito odierno? Diciamo subito che oggi qui a Sant'Angelo Invado presentiamo la misura 8 che è quella che riguarda la forestazione, quindi la manutenzione, lo sviluppo e tutto quello che è il nostro patrimonio boschivo e forestale. Dentro questa misura ci sono cose importanti, alcune misure sono state poco utilizzate in passato mentre rappresentano un'opportunità secondo me anche da sfruttare meglio e soprattutto qui dentro c'è anche la misura che riguarda la tartuficoltura, cioè la manutenzione delle foreste e l'utilizzo anche di alberi, anche la piantumazione di nuovi alberi finalizzati alla crescita e alla produzione di tartufo. Qui siamo in un centro che per tanti anni ha avuto un ruolo fondamentale, il più grande e il più importante che c'è di tartuficoltura, che fa anche assistenza tecnica, dà le piante che possono diventare già produttive, però ecco questo è un settore che ha bisogno di un grande aggiornamento e anche di un sostegno da parte delle istituzioni un po' più profilato. Molti imprenditori ci chiedono di cambiare, di semplificare la misura e oggi è una giornata di confronto istituzionale con le imprese che si occupano appunto di tartuficoltura all'interno di questo centro che è della regione e che forse va anche rilanciato. Per questo siamo qui per dare anche un segnale a questo mondo che rappresenta non solo un fatto produttivo molto importante ma rappresenta anche un'opportunità di valorizzazione di quella offerta turistica che noi vogliamo sviluppare attraverso prodotti e attività come quella della tartuficoltura ma anche della ricerca del tartufo naturale che per alcuni può rappresentare davvero un'esperienza turistica, quella della cerca del tartufo. Come detto in apertura si chiude il ciclo di incontri e di dialogo con i territori, possiamo fare un bilancio? Un bilancio, tanto impegno, un po' di fatica però certamente ripagata dalla gratitudine di tante imprese e anche di tanti comuni, tanti sindaci coinvolti che in questo tour hanno potuto primo confrontarsi e qualche volta anche criticare e dare la loro opinione e dire che cosa secondo loro non andava. Secondo, un'opportunità di confronto, di analisi, di percezione della realtà che molto spesso serve a noi ma anche ai dirigenti della regione perché un conto è stare chiusi dentro l'ufficio e un conto è andare sui territori e guardare in faccia le persone che sono beneficiari di questi bandi e magari hanno anche dei consigli da dare. Tartufficoltura e filiera legno-energia, quali e quanti bandi in uscita o in prossima emissione? Sì, buonasera. Stiamo facendo l'ultimo incontro oggi, andiamo in area montana e l'argomento principale in questo territorio sono i boschi. quindi stiamo cercando di capire come valorizzare al massimo questa risorsa del territorio dell'area montana sia con un'attività produttiva come il tartufo che sappiamo che poi in questa area ha una redditività molto alta ma dall'altro lato anche come utilizzare i boschi che sono nella regione Marche utilizzati in percentuale bassissima quindi con la filiera del legno-energia proviamo proprio da un lato quindi a creare occupazione in questi territori dando una possibilità di lavoro che ad oggi ancora è poco sfruttata dall'altro poi in questo momento particolarmente critico riguardo ai costi dell'energia sicuramente stiamo facendo un qualcosa molto importante sappiamo tutti il problema della guerra russo-ucraina i salti che sono stati fatti in alto dell'energia e quindi l'utilizzo dei boschi a fini energetici oltre a provare a dare una piccolissima risposta in questo senso la dà la risposta anche in termini di sostenibilità perché poi è una produzione di energia da fonte rinnovabile che è sicuramente diversa dalle energie fossili i bandi che stiamo per aprire il primo di cui abbiamo parlato in questo incontro con molte persone presenti era molto interessante questo tipo di presentazione sarà aperto nel mese di giugno quindi daremo la possibilità di impiantare tartufaie di tartufo nero il tartufo bianco purtroppo ancora non si riesce a coltivare come il nero ma il nero pregiato è molto importante poi un altro bando che invece è già aperto che scadrà prima dell'estate è quello delle filiere legno-energia in questo caso finanziamo sia interventi per il taglio del bosco l'esbosco del legno la produzione di materiale energetico potrebbe essere un cippato oppure legna proprio da ardere e in casi in cui la filiera vuole arrivare fino alla produzione di energia anche la produzione di caldaie per esempio per produrre energia elettrica o calore Si parla di bandi a misura del territorio che cos'è nello specifico la misura 8.1? Dunque è una misura del PSR dedicata all'incentivare all'interno delle zone interne marginali l'impianto di nuove tartufaie con molteplici benefici sia in termini di riduzione dell'emissione dell'OCO2 del sequestro del carbonio quindi del contrasto al dissesto idrogeologico nonché al favorire nuovi impianti per avere un domani una produzione di tartufi che può essere una fonte alternativa di reddito per queste zone interne Si è parlato anche di semplificazione, che cosa si intende? La semplificazione riguarda sicuramente nuove misure nuovi interventi a favore degli agricoltori in modo di avere un impatto che sia meno negativo nei confronti della pubblica amministrazione quindi alleggerendo sicuramente la produzione dei documenti e regole più chiare, più trasparenti e ovviamente la disponibilità sempre maggiore della regione di assistere gli agricoltori nel loro percorso Parliamo di energie rinnovabili su scala locale qual è la situazione nel nostro territorio? La situazione non è molto sviluppata nel senso che questa è una misura abbastanza nuova per il PSR sono stati emanati già alcuni bandi nei due anni precedenti alcune adesioni ci sono state ma servirebbe un passo in più qualcosa di più gli boschi non sono molto sfruttati da questo punto di vista per la produzione di energia rinnovabile su scala locale Quindi avete fatto una sorta di piano per poter potenziare le nostre aree sicuramente ma anche i lati più carenti per sfruttare al massimo il potenziale? Sì, diciamo che questa misura del PSR è una misura di cooperazione che prevede l'intervento di vari attori che fanno domanda su varie misure attivate all'interno della filiera che vanno dalle misure che prevedono un sostegno alla formazione alla consulenza tecnica all'acquisto delle attrezzature forestali fino all'acquisto di impianti per la produzione di energia rinnovabile Diciamo che questa è una misura che si dovrebbe sviluppare sempre di più perché potrebbe permettere di portare a livello locale siccome sono misure di cooperazione locali di portare a livello locale maggiore remuneratività da parte dei produttori forestali e avere una maggior ricaduta sul territorio a livello locale Quali sono le attività e le necessità del centro sperimentale? Mi fa piacere che c'è questa opportunità di parlare di tartuficoltura perché è un'attività molto importante a cui Assam è dedicato in gran parte del proprio tempo Negli ultimi anni in particolare c'è stato un grande sviluppo soprattutto una grande innovazione sperimentazione e quindi diciamo che Assam ha puntato molto sulla tartuficoltura soprattutto nelle zone, in queste zone Perché la tartuficoltura? Perché è una cultura particolarmente adatta per queste zone montane funge da integratore del reddito a livello anche paesaggistico crea del valore aggiunto crea anche un'economia e soprattutto sta bene anche con il PSR con le risorse del PSR In questi ultimi anni noi abbiamo dato soltanto nel 2021 oltre 7.000 piantine di tartuficoltura che sono state diciamo in qualche modo hanno collaborato con il PSR nel modo che utilizzando gli agricoltori i finanziamenti del PSR hanno poi diciamo messo a dimora tutte queste piantine Noi offriamo un servizio offriamo formazione offriamo le piantine naturalmente che sembra di grande qualità perché a questo noi ci puntiamo molto abbiamo la collaborazione con l'Università delle Marche e quindi a questo settore ci teniamo particolarmente Quindi è una scelta mirata quella di Sant'Angelo in Bado? Qui abbiamo il primo centro di tartuficoltura riconosciuto a livello italiano quando si parla di tartuficoltura le Marche non sono seconda a nessuno se guardiamo i numeri in qualche modo il Molise Pro Capite potrebbe rossicchiare qualcosa ma non sono assolutamente le Marche Noi abbiamo puntato molto Sant'Angelo in Bado in particolare abbiamo questo centro che ormai è storico un punto di riferimento non dico altro ma siamo veramente all'avanguardia possiamo dirlo a voce alta E come recita lo slogan è davvero tempo di agricoltura avete sentito tutte le novità promosse e proposte dal PSR e dalla Regione Marche Noi vi ringraziamo per averci seguito e un buon proseguimento con i nostri programmi Noi vi ringraziamo per averci seguito